ciao a tutti ben trovati da crypto italy continuano esserne giornate di pioggia e sole dalle mie parti ma andiamo a vedere come va il mercato delle criptovalute allora iniziamo come da sempre da coin 360 bitcoin ancora più 5 per cento e le altre non lo seguono a ruota verdi rossi ma nessuno perde tanto nessuno guadagna tanto tranne bitcoin più 5 per cento market cap bitcoin vicino i 220 bilioni e la dominance non l'avevo mai vista almeno quest'anno al quasi 64 per cento vediamo se c'è qualcuno che ha fatto qualche explora particolare che conosciamo nessuno nome almeno a me noto vediamo se qualcuno è andata particolarmente male energy ancora meno 8 per cento chain link ancora meno 6 per cento continuano andare su e giù queste due che si nominano tanto una notizia interessante era che comunque questo è il grafico sono i grafici delle criptovalute negli ultimi vediamo qua sei mesi in rapporto a bitcoin vediamo che ha guadagnato un po' litecoin ma diciamo niente binance coin ha guadagnato leo chain link basta tutte le altre negli ultimi sei mesi hanno perso e anche tanto rispetto a bitcoin meno 48 meno 75 meno 38 vediamo le prime meno 32 tereo meno 64 xrp interessante per cui continua essere mercato dominato da bitcoin e le altre criptovalute perdono nei suoi confronti anche se non perdono nei confronti del dollaro vediamo i grafici di bitcoin a quanto pare è tornato sulla resistenza bitcoin che io avevo indicato intorno ai 12.200 è tornato una due volte adesso sembra di nuovo involato verso l'alto diamo un'occhiata negli ultimi direi nell'ultimo anno come sta andando bitcoin vediamo per cui che sta seguendo questa linea retta che fa da supporto e si sta portando spostando ancora più verticalmente rispetto a questa linea letta retta che tocca tutti i minimi da febbraio in poi direi bene ah sì un'osservazione i volumi comunque sono in crescita in questo periodo come volete sono molto in crescita molte più persone molte più investitori che investono su bitcoin e le altre criptovalute una notizia sì giusto un'analisi guardando l'intervallo della settimana da febbraio in poi possiamo notare un rosso due rossi tre rossi quattro rossi cinque rossi per cui direi che insomma le prospettive guardando il passato sono essenzialmente rose facciamo un dramma quando cala bitcoin ma come vediamo è sempre continuato a salire tranne una settimana in cui è sceso particolarmente per il resto è sempre continuato a salire o è rimasto praticamente stabile bene andiamo a vedere adesso qualche notizia questo qui l'ho trovato su inter si chiama bitcoin arcobaleno e che indica per cui l'andamento di bitcoin e con indicati anche i consigli dove acquistare blu dove accumulare e dove vendere nella fase rossa la fase rossa affronteremo prevedo non prima di un anno dopo l'alvin cioè a quasi due anni da adesso andiamo avanti questa notizia dice sempre al supporto di bitcoin che bitcoin è esistito per 3837 giorni fino ad oggi e i giorni in cui è stato diciamo non positivi sono stati solamente 60 per noi positivi intende quelli in cui se abbiamo acquistato ora siamo in perdita e sono solamente questi giorni qua saranno 58 57 giorni e uno due giorni della scorsa settimana dove il titolo ha toccato i 13 mila e 800 per cui altre notizie positive una notizia che rimbalza in questi giorni e che praticamente associazione avvocati americani ha fatto notare che teter continua a essere operata che bittine continua a permettere a teter che è una stable coin cioè è supportata è una cripto bauta supportata comunque dal dollaro nel a new york cosa che l'era stato proibito e un'altra notizia importante dice che e teter ne avevo già nominato in questi giorni sembra abbia un percorso un grafico simile a quello di bitcoin qua praticamente è venuta fuori una notizia che sta per essere verificata che dice che praticamente vediamo qua teter innanzitutto è una cripto valuta che è supportata è stata creata da una compagnia con lo stesso nome e andiamo a vedere la notizia dice i recenti diciamo aumenti incrementi di valore di valore di bitcoin sembrano coincidere con l'emissione di alcune di monete teter qui dice anche che ci sono dei sospetti per cui che queste monete teter vengano appunto emesse supportate da dollaro però non completamente perché la riserva di teter sembra che sia supportata al dollaro al 75% e queste monete una volta che vengono stampate diciamo create vengono utilizzate per acquistare bitcoin sembra comunque qui dice ok qui dice in aprile il comitato di avvocati ha annunciato che sta investigando su ifinex che non è altro che la compagnia che ha creato il blockchain che supporta teter per frode in più dice sì come ho detto che è supportato solo il 75% da reali dollari questo vuol dire che se tutti chiedono a teter di essere trasformati in dollari non si riesce a soddisfare questa esigenza e in particolare un'altra persona qui dice che scettica nei confronti delle criptovalute e lui dice che a sostegno di questo porta anche teter dice che il 95% del volume di bitcoin è fittizio perché è creato dalle stesse persone a degli stessi gruppi che si scambiano praticamente bitcoin tra di loro e mandano sul valore dopo c'è una sua interessante constatazione e la metterò sulla mia pagina twitter perché è un po' troppo lunga per leggerla dice praticamente che appunto vengono emessi 500 milioni di dollari al mese di teter e sono quei 500 che dai conti sono andati a finire in bitcoin e hanno aumentato per cui il valore di bitcoin non sembrano essere coincidenze proprio prese a caso un'altra informazione è che la banca centrale cinese sta sviluppando la propria moneta virtuale per rispondere a libra libra sta scatenando varie reazioni nel mercato nel mondo delle criptovalute adesso ne vedremo anche un'altra questa notizia l'ho messa nella mia pagina twitter vediamo se riesco ad aprire speriamo di sì questa pagina per mostrarvi il grafico comunque questo associato di twitter dice che twitter nel 2000 se adesso ho sbagliato andrò a correggio comunque nel 2023 raggiungerà i 250 mila questo è dovuto a un'analisi del suo grafico che praticamente l'analisi dice che se noi andiamo a prendere dall'inizio bitcoin il grafico di bitcoin lui dice che è praticamente storicamente l'aumento tra il punto più basso di questo ciclo di bitcoin tra un halding e l'altro praticamente e che in questo caso è 3000 e il punto massimo che era 22.000 se li dividiamo viene una percentuale di circa 7500% l'aumento della moneta di bitcoin lui prende e lo moltiplica per 2,38 e viene circa 17.500-18.000 togliendo i precedenti 7.000 avviene un aumento di 10.000 per cui 22.000 per 10.000% verrebbero circa 250.000 poco meno comunque e lui giustifica ha fatto un'analisi ed è caduto cioè questi numeri di 2,38 eccetera continuano a ripetersi diamo un'altra notizia che è questa legata a Libra sì praticamente Libra porterà 2,7 bilioni di utenti mensili perché sono quelli che utilizzano Facebook nel mondo delle cryptocurrency questa ve l'avevo già data ma era per ricordarvi questo era perché perché se noi andiamo a vedere la dominance di bitcoin nel 2017 fino al 2017 inizio 2018 aveva raggiunto un minimo questo perché Ethereum aveva raggiunto il suo massimo e adesso torna a divergersi la dominance sì diciamo il market cap la capitalizzazione delle due monete secondo comunque una teoria per fronteggiare Facebook e Libra in parte scusate Libra non Facebook con i 2,7 bilioni di utenti cosa che assolutamente non hanno perché bitcoin ed Ethereum assieme l'unico modo per fronteggiarli e non essere mangiati a sua volta sarebbe quello di unire le forze non si può farlo trasferendo Ethereum su bitcoin perché la piattaforma di bitcoin non lo permette adesso e per essere pronta ci vogliono degli anni può essere fatto trasferendo bitcoin su Ethereum e questa potrebbe essere un'idea per fare questo è uscito RapidBitcoin che è una blockchain una piattaforma che appunto trasferisce bitcoin su Ethereum su piattaforma Ethereum ed è stata lanciata nel mercato questi giorni andrò a vedere anche quanto vale ma potrebbe essere interessante andare ad acquistare qualche moneta di questa criptovaluta per oggi è tutto andiamo nuovamente a vedere il grafico siamo a 12.562 si sta allontanando da quella che è la resistenza speriamo appunto che si avvii gli obiettivi prossimi sono 13.800 perché era dove aveva rimbalzato qualche settimana fa ma dopo 16.000 e 20.000 che prevedo vi raggiunga nel giro di un mese un mese e due spero vi sia piaciuto grazie per avermi seguito come sempre iscrivetevi al mio canale mettete mi piace se avete domande commenti io vi risponderò ciao e grazie grazie a tutti